Eccoci qua, questo è Just Today, allora il bello della diretta, come a volte ci piace dire, purtroppo non riusciamo a collegarci via Skype con il professor Giuseppe Falanga che si trova a Matera per seguire il 27esimo congresso eucaristico nazionale. Lo faremo tra qualche istante e telefonicamente, anche perché poi alle 9.30 ci sarà la Santa Messa, sempre per chi sta seguendo il congresso e quindi almeno avremo modo di farci raccontare come stanno andando i lavori. Poi subito dopo continueremo a seguire, grazie anche alla regia che già ha preparato il sito internet, guardate vi parlavo proprio del logo, si intravede proprio la pagnotta del pane e poi ecco il profilo della città di Matera nel centro storico. Torniamo al gusto del pane per una chiesa eucaristica e sinodale, questo è il 27esimo congresso eucaristico nazionale che si svolge proprio nella città dei Sassi che è Matera. Circa 800 i delegati arrivati da 166 diocesi italiane condividono con una ottantina di vescovi quattro giorni di preghiera, riflessione e confronto sulla centralità dell'eucaristia. Abbiamo anche poi le parole del presidente della CEI, il cardinale Zuppi, che ha aperto i lavori del congresso eucaristico a Matera e che invece sarà Papa Francesco a chiudere i lavori. Allora mi dicono la regia, abbiamo il professor Falanghi in collegamento telefonico, pronto? Buongiorno Giuseppe, benvenuto. Buongiorno Paola, un saluto a te e a tutti i telespettatori. Allora io ti sento in regia ma non ti sento in studio, quindi oggi purtroppo con l'audio non abbiamo molta fortuna. Quindi ho sentito i tuoi saluti, eccoci, adesso ti sentiamo forte e chiaro, ce l'abbiamo fatta. Un saluto a tutti da Matera, città di eucaristia e città del pane. Ecco, allora poi ci racconterai se hai avuto modo di mangiare il pane di Matera che è buonissimo. Allora sei a Matera appunto per seguire il congresso eucaristico nazionale, come si stanno svolgendo le giornate? Ieri al telefono mi parlavi che comunque i lavori sono dislocati in diverse parrocchie della città dei Sassi. Sì Paola, sia l'organizzazione centrale della conferenza episcopale italiana che la diocesi di Matera e Irsina hanno pensato di far vivere il congresso eucaristico su tutto il territorio della città di Matera. Anche perché sapete che qui il centro storico è piccolo e poi c'è una grossa periferia moderna. In questo momento io sono proprio all'esterno della parrocchia di San Pio X che è toccata ai vescovi e al mio gruppo di studio e praticamente qui viviamo la celebrazione eucaristica presieduta da un vescovo e concelebrata dagli altri vescovi e sacerdoti così come in altre nove parrocchie della città e la cattedrale. E da qui seguiamo poi in diretta streaming anche le conferenze e si fanno i gruppi di studio. Poi ci si ritrova per alcuni momenti comuni nel pomeriggio. Ad esempio ieri pomeriggio abbiamo vissuto un momento bellissimo di preghiera con la via Lucis proprio nei Sassi presso la chiesa di San Pietro Caveoso. Stasera invece vivremo la processione eucaristica che si snoderà per tutta la città di Matera. Un congresso che è stato aperto dal presidente della CEI, il Cardiale Zuppi, e che sarà chiuso domani dalla messa e dalla presenza di Papa Francesco. Sì, infatti c'è gran fermento come tutte le visite del Papa, lo sapete, l'avete vissuta anche voi. Si cominciano a vedere molte più forze di polizia, più persone. La città viene ripulita in alcuni punti, lì dove ci sarà il passaggio del corteo del Santo Padre che presiederà la celebrazione eucaristica nello stadio di Matera. Domani mattina alle nove. Sarà un astazio per tutta la Chiesa italiana perché qui, come dicevi, sentivo dal collegamento, siamo in rappresentanza di tutte le Chiese che sono in Italia. Ogni diocesi poteva portare una delegazione di sette persone, compreso il Vescovo. Alcune sono in piena presenza, altri con meno delegati, ma comunque è stato un momento forte, è un momento forte di presenza anche nel post-pandemia. Quindi ci si ripete con gioia e con affetto. E tu rappresenti, insieme ad altri delegati, l'Arcidiocesi di Napoli. Quindi quando ci siamo sentiti quest'estate per presentare ai nostri telespettatori il tuo libro, ti avevi preannunciato che saresti stato a Matera al Congresso Eucaristico Nazionale, abbiamo approfittato proprio della tua presenza per questo collegamento. Allora, noi abbiamo visto, intanto ti stiamo vedendo a tutto schermo in un frame dell'intervista che hai rilasciato alla nostra emittente in tempo d'estate, però chiederei alla regia di tornare al sito del Congresso Eucaristico, congressoecaristico.it, proprio per vedere il logo che è stato scelto per appunto questo evento. E soprattutto il tema, torniamo al gusto del pane per una chiesa eucaristica e sinodale. Allora, Giuseppe, come teologo, come interpreti questo tema e anche poi il sottotema che è stato dato, il sottotitolo? Sì, innanzitutto, come vi dicevo già salutandovi, Matera era già nota come città del pane e in questi giorni con il Congresso Eucaristico Nazionale diventa la città dell'Eucaristia. Quindi si è voluto prendere un tema che potesse richiamare uno degli elementi centrali di questa città, quindi il pane. Torniamo al gusto del pane. E poi c'è un sottotitolo che richiama il cammino della chiesa in questo momento. La chiesa eucaristica e la chiesa sinodale. I vescovi italiani hanno voluto che questo congresso eucaristico si tenesse proprio a metà del cammino sinodale, che come sapete si concluderà nel 2025, quando con tutta la chiesa celebreremo anche il giubileo. Per cui questa è una sosta di meditazione, di approfondimento, di riflessione, direi di contemplazione che la chiesa italiana fa a metà di questo cammino sinodale, ricordando che la sinodalità nasce dall'Eucaristia. E' proprio lì con la condivisione del pane, del vino, un pane spezzato, che nasce la sinodalità, la convivialità, la coinonia, la comunione della chiesa. Quindi mi sembra veramente un tema appropriato e che stiamo riuscendo veramente a vivere con le riflessioni, con le celebrazioni e anche con le condivisioni nei gruppi di studio. Insomma sta andando bene e ci si sta attenendo a quelle che erano le previsioni. Bene, allora noi ti ringraziamo per essere stato con noi, per essere stato i nostri occhi, appunto il nostro sguardo sulla città di Matera che sta ospitando il Congresso Eucaristico Nazionale. Hai avuto modo di gustare il pane di Matera? È buonissimo. Il pane di Matera è stato donato a tutti i delegati al termine della celebrazione introduttiva, Paola, che abbiamo tenuto nella grande piazza di Matera e l'abbiamo potuto gustare, certo. È ottimo, è ottimo. Comunque, allora, Giuseppe Falanga, grazie per essere stato con noi, professore, il nostro amico teologo e giornalista. Torneremo, insomma, come dire, a scomodarti, anche perché dovessero esserci anche altre iniziative a livello diocesano dell'Arcidiocesi di Napoli, beh, sarà i nostri occhi e la nostra voce in qualche modo. Sono io che ringrazio voi e saluto tutti i telespettatori. Bene, grazie ancora, buon lavoro, lavoro che continua appunto a Matera per il Congresso Eucaristico Nazionale. Salutiamo ancora una volta il professor Giuseppe Falanga, teologo e giornalista, ma amico di Padre Pio TV, 9.29. Andiamo ancora in pubblicità e poi di nuovo insieme con Just Today.